Nessun aumento per le utenze domestiche, per le quali la Tari, la tarifa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, resta quindi di fatto invariata. Previsti invece risparmi per le imprese, in media 4,45%. Lo stabilisce la delibera approvata dal Consiglio Comunale, che accoglie il testo già esaminato e votato dalla Commissione Finanze nei giorni scorsi. Contestualmente è stato dato il via libera al PEF, il Piano Economico Finanziero del Servizio, presentato dall'assessore alle politiche ambientali Fabio Pinna. I cittadini coprono con il versamento della Tari 24.470.000 euro del totale previsto dal PEF, che per il 2017 sfiora i 26 milioni e che comprende anche un saldo di 830.000 euro, ovvero risparmi ottenuti nella gestione 2016. Un risultato collettivo dell'intera città che ha portato in un anno a superare la soglia del 50% di raccolta differenziata. Una sfida che abbiamo raggiunto è che ora ci pone davanti l'obiettivo del 65% ha detto l'assessore Pinna. Un dato che attende ancora una giusta valorizzazione, ha sottolineato l'assessore alle finanze e ai tributi Simone Campus. La diminuzione della tariffa, seppure contenuta, si deve all'impegno dei cittadini e al lavoro degli uffici. È stata confermata la possibilità della raziazione della tariffa e sono previste riduzioni, tra cui quella del 30% sulla sola parte variabile, per le utenze domestiche e dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta. Preplesse le opposizioni in Consiglio Comunale, in particolare il Movimento 5 Stelle. Finché non sarà evidente l'intenzione di tracciare un percorso virtuoso e non si sceglierà di dare una premialità a chi differenzia correttamente, il nostro voto sarà contrario e la posizione degli esponenti pentastellati. Sì invece è da Sassarie che con il consigliere Enrico Sini ha condiviso il merito della delibera a favore dei cittadini.